cari fratelli e sorelle nella giurre sono sempre Don Cherubino sono arrabbiatissimo il signor arbitro domenica scorsa mi ha fatto abusare anche a me perché l'ho sentito il mio mio collega Don Gigi Inter che ha detto che ha abusato del metodo di padre Pedro ma io veramente ho fatto padre Pedro tutta la settimana ero lì un continuo San Camillo San Camillo fammi stare un po' tranquillo San Camillo San Camillo perché veramente dopo un arbitraggio del genere non ne potevo più stavo ero lì che volevo mangiarmelo l'arbitro ma non potevo e d'altronde sono sacerdote devo stare ho bisogno a perdonare le pecorelle smarrite lui altro che una pecorella smarrita è proprio smarritissima se è proprio smarrita in tutto il campo di calcio se è confuso come si arbitra se ha dimenticato il regolamento si è dimenticato tutto ha fatto solo danni e noi abbiamo perso tre punti pesantissimi che adesso siamo a quattro punti da Roma e Lazio bisogna sperare che loro perdano dei punti nelle prossime partite la vedo veramente dura poi bisogna vedere cosa combinano quei tre pelabrocchi che ci abbiamo a centrocampo che due sono fortissimi però il problema è che uno ha 90 anni si regge in piedi a malapena quell'altro bisogna vedere come si sveglia al mattino se c'ha voglia di giocare o no ultimamente sta giocando benissimo che non sembra neanche lui ma i primi sei mesi era lì a fare flanella poi improvvisamente si vede che ha sentito l'odorino della primavera si è svegliato è diventato quasi meglio del pirlo con tutto il rispetto è parlando però veramente fenomenale corre slotta sembra un ira di dio sempre migliore in campo e poi meno male ci abbiamo quell'altro che è tutta tecnica eccetera fortissimo bravissimo eccetera però anche lui non sappiamo mai se riesce a giocare 80 minuti 70 minuti 90 minuti 95 minuti perché bene detto questo a centrocampo poi abbiamo il disastro il disastro sulla sinistra il terzino sinistro santon d'amber la coppiata di gianni e pinotto ne combinano una peggio di ravetta anzi l'altro perché poi lo offendono poverino poi si deprime poi dopo che si deprime gioca peggio perché logicamente entra in campo che c'ha paura di sbagliare sbaglia è perché è normale è normale psicologicamente me l'avete messo ko mi avete fatto spaventare anche quella povera donna della sua fidanzata che lo deve sopportare anche perché mi dicono che sempre in giro a fare la vita il furbacchione ma io non lo so c'è una moglie una figlia ma stai a casa ma dove va in giro no lui deve andare in giro poi va in giro anche per il campo si svaga e noi prendiamo dei gol sciocconi per non parlare del nostro portiere che mi sono che don gigi inter si è dimenticato di fare la piglierina per il nostro portiere io non lo so noi non abbiamo un portiere abbiamo una saracinesca nel vero senso della parola tra i pali è fortissimo ma come esce dai pali è un disastro anzi lui non esce sta fisso sulla sulla linea di porta non esce mai oggi guardavo mirante usciva si lanciava buffon che è un monumento usciva si lanciava al nostro no sta in mezzo alla porta sta sempre lì para l'impossibile poi basta che gli fanno un cross lui è lì che lo guarda ops la colpita di testa ma fatto gol ma io non lo so ma mi domando e dico se è un armadio sei grande grosso e non dico l'altra parola perché sono sacerdote non posso ma io non lo so non lo so ma come sta questo qua è alto due metri è un metro e 90 metro 95 un armadio grande grosso c'ha paura a uscire sembra che c'ha il zavorre attaccato ai piedi che deve stare in porta poi fai dei voli pindarici bellissimi è svolazza che è un piacere prepara tutto arrivano dei missili terrari a lui li prende arriva il cross lui non si sposta e arriva i guain che fa cucù e lui lo guarda cross a quell'altro lui ops è passato quell'altro fa il tiro e lui ops è passato mi sembrava mi sembrava mi sembrava il giovanni galli con maradona i mondiali dell'86 che maradona gli ha toccato appena appena la palla lui ha fatto ops è entrata ma non lo so ma io mi domando e dico non ho veramente parole speriamo che il signore guardi giù la preghierina gliela faccio io al signore signore guarda giù insegna al signor samir andanovic a fare le uscite perché non se ne può più far di quei disastri tutte le volte ogni volta che deve uscire non esce anche col genoa al povero scrigna gli ha fatto tirare ad ossa a ranocchia che hanno fatto l'autogollonso del secolo che la meno male che anche il liverpool ha fatto lo stesso autogollonso perché sennò avevamo l'avevamo fatto solo noi un autogollonso del genere non ho veramente parole ma veramente ma io non ho parole va bene ragazzoli io vi ringrazio vi saluto scusate lo sfogo perché veramente ero leggermente inviperito ah no giusto proseguiamo con gli altri giocatori dell'inter vabbè miranda e scrigna sono abbastanza tranquillo il cansello sta giocando benissimo quindi sono abbastanza tranquillo la preghierina per candreva l'ha già fatta don gigi inter ormai il signore sarà anche stufo di sentire dire fai segnare un gol a candreva mi sa che quando il signore si decide a guardar giù candreva farà una cinquina perché oramai ha furia di disturbare nostro signore è vero per dirgli farci segnare candreva a un certo punto gli farà fare 4 5 in una partita sola perché così almeno ci accontenta preferiremmo ne segnasse una partita però se ce li fa fare tutti e cinque magari nell'ultima giornata non è che a noi diciamo di no mi dispiace per i tifosi della lazio che l'es gli segna cinque gol però non sarebbe neanche male e poi va bene perigi si spera che non mandi suo fratello a giocare come è successo nel periodo dicembre marzo che si vede che era andato a rio a vedere il carnevale mandato suo fratello gemello che infatti si vedeva che non era lui mentre invece con l'icardi si spera che a parte il derby il suo golletto lo metta dentro anche perché lì lì a lottarsi la classifica cannonieri con l'immobile e francamente è meglio che vinca l'icardi che non un immobile l'immobile gli facciamo fare la casa va alla remax o all'immobiliare.it e si vende lì è un immobile una casa lo vendiamo è lottito va dalla remax e lo fa vendere ma almeno l'icardino è contento visto che non lo vogliono neanche i mondiali meglio così così non si stanca si spera che resti si speri che resti anche raffigna e canselo perché sennò l'anno prossimo veramente siamo rimessi male un'altra volta perché se ci partono tutti perché non andiamo in champions come temo ahimè ma speriamo che il signore guardi giù e faccia un miracolo visto che sono sette anni che non ci andiamo sarebbe anche ora tanto andiamo a partecipare non è che pretendiamo chissà che cosa si partecipa poi ottavi e quarti si va a casa ma almeno siamo tornati in champions bene ho parlato troppo cari fratelloni nerazzurri naturalmente e ci vediamo la prossima volta ciao